Buongiorno a tutti, allora, magliettina nera azzurra, perché ho trovato sul gruppo Galassia nera azzurra che ogni volta mi dà degli spunti, ma non sono degli spunti, sono delle libidini proprio, sono delle cose che mi fomentano, mi fanno godere proprio, si fa per dire, è un godimento relativo, però proprio leggi queste cose e dici cazzo hai perfettamente ragione, scusate il francesismo. Oggi leggevo sul tv Sorrisi e Canzoni che c'era il buon Alessandro Greco che metteva i cinque consigli per stare davanti alla tv, per stare in televisione per intenderci, che gli aveva dato Raffaele Lacarrà perché lui era un po' il suo figlioccio, l'aveva creato lei, no? Pippo Baudo li ha creati quasi tutti, ogni tanto anche Lacarrà scopriva qualche nuovo talento e nel caso era l'Alessandro Greco che dicono che sia il suo tra virgolette figlioccio televisivo per intenderci l'ha creato lei e diceva la prima regola era, a parte vestirsi bene, giacca e cravata, cioè non andare trasandati, non dire le parolacce ma a me scappa, ogni tanto mi scappa, scappa tutti nell'intercalare, c'è il francesismo. Comunque andiamo a leggere questo signore che ha qualche annetto più di me, io sono diversamente giovane quindi mi dimentico gli anni che ho, però questo signore ha qualche anno più di me e scrive nel gruppo perché naturalmente se ne stanno leggendo di ogni, siamo tutti disperati, tutti oddio, addirittura un ragazzo sulla cosa della pizza non so cos'è da festeggiare, stavo mangiando una pizza adesso cos'è perché hanno venduto Lukaku, devo mettere il lutto al braccio, ho perso mia mamma, ho perso mio papà, quelle sono tristezze, non Lukaku che se ne va dall'Inter, con tutto il rispetto, poi magari qualcuno mi dice no, Gigi Lukaku, Lukaku che va via dall'Inter, la morte di una mamma di un papà sono niente perché magari qualche esaltato c'è, io sinceramente, morto un Lukaku, ce ne faremo una ragione, verrà un altro, la maglia come ho già detto, non affezionatevi ormai più ai giocatori, la maglia e giustamente un ragazzo aveva messo anche la maglia, aveva fatto, vedevo peso, mi hanno regalato tre magliette, mi sembra Hermes messaggerone razzurro, visto un suo video fa mi hanno regalato delle magliette fortunatamente col nome, adesso non ricordo se era Hermes o chi, era uno degli youtuber nero azzurri, gli hanno regalato i suoi follower, la maglietta era tutto contento, col nome, fa meno male me l'hanno fatta col nome, perché tanto qua prendi la maglia di un giocatore, l'anno dopo giochi in un'altra squadra, non ne vale la pena, se volete comprarvi le magliette fatevele da fare col vostro nome, scusate, vado a leggere, perché sennò facciamo notte, già è notte, quindi leggiamo, leggo in giro in vari gruppi di tutto e non ridisco, ho 57 anni e tifo inter da sempre, scrive questo signore, nel 1980 avevo 16 anni e lo scudetto me lo ricordo, io ero in terza media, e il buio fino allo scudetto del 1989, anni in cui è nata mia figlia, dice questo signore, poi di nuovo nullo fino a calciopoli e gli scudetti vinti onestamente, l'apoteose del triplete, e il buio di nuovo fino allo scorso anno, un secondo posto, una finale di L e lo scudetto meraviglioso di quest'anno, io me li ricordo quegli anni in cui ci hanno sbeffeggiato, presi in giro, strapazzati, gli anni in cui ci hanno rubato partite, risultati, gli anni in cui a volte abbiamo fatto miracoli con giocatori che, poverini, non erano neanche colpa loro, non erano da Inter, e a volte no. Gli anni da mezza classifica, di risultati mediocre, il 5 maggio, che per di più il 5 maggio è anche l'inizio dell'apoteosi, perché il 5 maggio 2010 vincemmo la Coppa Italia, la settimana dopo vincemmo a Siena e vincemmo lo scudetto e poi vincemmo la Champions. Ma io non ho mai smesso di amare questa maglia, ho visto andar via giocatori che amavo, allenatori che adoravo, e ho visto arrivare giocatori che non avrei mai scelto al fantacalcio, allenatori che non sopportavo. Ma il mio amore per l'Inter non ha mai vacillato, e secondo voi dopo uno scudetto vinto, strameritatamente, sottolineo anch'io strameritatamente, esiste qualcosa che può farmi cambiare idea, punto di domanda. È l'Inter che conta, io non ce l'ho con Conte, né con Akimi, né con Lukaku. E vorrei vedere voi se a neanche 23 anni vi offrissero un ingaggio favoloso, o se a 29 anni vi rivolessero dove vi avevano cacciato con un ingaggio doppio di quello che prendi ora. Questi sono professionisti, e dovremmo ringraziarvi per aver onorato la maglia finché l'hanno indossata. E poi chi mi dice che sia Akimi che Lukaku, che per ora fino a comunicazione contraria è sempre nostra, ma se n'è andato, però l'ha scritto prima. Non abbiano preso decisioni di comune accordo con la società per il bene reciproco, e la proprietà ha tirato fuori 700 milioni, e poi scrive tra virgolette in maiuscolo 700, ci ha tirato fuori dalla melma, ha internazionalizzato davvero il nostro marchio. La pandemia non è colpa di nessuno. E io che voglio sottolineare, e io che vogliano solo ottimizzare per i loro profitti, non ci credo. Ma voi che leggete giornali, giornaletti, siti, pagine, vedete lo stesso accanimento nei confronti delle altre squadre? Io no. Io vedo solo che i protagonisti se ne stanno zitti, muti e lavorano. E quindi io aspetto a giudicare, messo tra virgolette, ma non rinegherò mai il mio grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la risalita dalla melma. Io non sono arrabbiato con nessuno. Il calcio ormai è questo. Leggo di tifosi che minacciano i calciatori o la proprietà, che minacciano di non ti fare più. Arrabbiati, incattiviti. Si può essere delusi, tristi, ma io sarò un cretino o ancora la felicità dello scudetto, le prudezze e i gol. E non sono arrabbiato. Ripeto, ormai il calcio è questo. Ma soprattutto non saranno certo se ci saranno eventuali altri anni mediocri a togliermi dal cuore questi colori. Poi ha aggiunto 3, 2 e 1, massacratemi pure. Ecco, adesso probabilmente non era un signore o una signora, ma io ho visto due nomi, nome di un ragazzo e nome di una ragazza. Quindi non so se hanno scritto assieme la lettera o che cosa. Ho considerato solo. Poi comunque non faccio nomi. Galassia Nerazzurra è il gruppo, però non mi va di fare nomi per correttezza. Io condivido in pieno queste parole. Io sono tifoso dell'Inter. Io l'Inter la tiferò sempre. Sia che lotta per i primi quattro posti, per lo scudetto, per quello che volete. Sia che lotta per un quarto posto. Poi magari posso anche non essere soddisfatto, non mi metto a esultare per un quarto posto, come è successo negli ultimi due anni di Spalletti, che erano tutti esaltati perché avevano vinto con la Lazio o perché ero a San Siro a Interempoli e mi stava scoppiando, mi stava andando il cuore in campo quando D'Ambrosio ha fatto il salvo traversa su un pallone che se non la devi a lui sulla traversa finiva il giocatore dell'Empoli che non poteva sbagliare, era lì da solo. Però lì mi stava poing. Cioè proprio ero al secondo anello rosso ho sentito il cuore che puff stava finendo in campo. Quindi sono contento certo, non è che posso dire non sono contento dello scudetto, ci mancherebbe, sono contento dello scudetto. Però ragazzi quel godimento che ho avuto quel 2010 è inarrivabile. Ve l'ho detto, è inarrivabile. Poi è logico, l'Inter io purtroppo da diversamente giovane sono abituato a vederla vincere di tanto in tanto. Infatti per noi quel periodo dal 2006 al 2010 è stato un po' fuori dall'ordinario perché di solito l'Inter vince un paio di scudetti di fila, poi torna Cuccia, vince magari due scudetti, due coppe dei campioni, fa bene tra quattro anni, poi torna Cuccia, poi magari fa un'altra finale di Champions, poi vince una Coppa Italia, poi vince uno scudetto. Noi sappiamo benissimo che l'Inter comunque qualche soddisfazione ogni tanto ce la dà. Noi, milanisti più o meno sono sulla nostra stessa situazione con una piccola differenza che loro sono rimasti 44 anni senza vincere uno scudetto. Poi sono stati i primi a vincere la Champions, poi noi li abbiamo raddoppiati vincendo ne due, poi loro hanno pareggiato i conti nel 69, poi col Berlusca hanno avuto lo splendore, il re sole e adesso sono tornati a essere la squadra che più o meno come Roma e Lazio, loro sono, anzi come Juventus e Torino, loro sono il Torino, ma noi non siamo la Juve purtroppo, anzi fortunatamente, però nel senso come differenza, ma era per capire che i derby più o meno ultimamente loro ne vincono uno, su dieci derby loro ne vincono uno, ne pareggiano quattro e ne perdono cinque, o ne perdono quattro e ne pareggiano cinque, perché sono passati cinque anni da un derby all'altro, c'era il derby di Coppa Italia in mezzo, però dall'ultimo derby che hanno venuto a quello dell'anno scorso, erano passati quasi cinque anni e spero ne passino altri cinque alla prossima vittoria. Attenzione che in Coppa Italia ci potrebbe essere u derby, u derby perché siamo dalla stessa parte, quindi ci potrebbe essere u derby di semifinale in cambio l'anno prossimo, vedremo. Addirittura potremmo prendere nei quarti la Roma di Mourinho, quindi tanta roba, certo evitiamo la Juve, evitiamo il Napoli, evitiamo l'Atalanta, evitiamo anche la Lazio che se non ero è dall'altra parte, adesso non mi sembra sia Inter Milan Roma, i quarti di sinistra Inter Milan Roma e adesso la quarta non me la ricordo, la Juventus è dall'altra parte comunque, perché ho curiosato così in maniera veloce e rapida. Vedremo, ripeto, a me la lettera di questo ragazzo o ragazza, signora o signore, mi è piaciuta molto, perché è la lettera di un tifoso vero, di un tifoso che ti fa la squadra a prescindere che l'obiettivo sia lo scudetto, che l'obiettivo sia un quarto posto, che l'obiettivo sia giochiamo sto campionato e vediamo come va e come va va, eccetera, eccetera, eccetera. La squadra ragazzi miei a me non dispiace, perché se è vero che ne arrivano Nandez e Danfris, noi a difesa, a centrocampo e sulle fasce, si è messi molto bene. Il problema ragazzi miei è l'attacco, però scherzosamente vi dicevo, nell'82-83 andò via Bourbon, campionato 82 e misero Zenga in porta, un ragazzino che arrivava dalla San Benedettese e Zenga è diventato uno dei migliori portieri che ha sempre avuto l'Inter, poi uno può dirmi Giulio Cesar, può dirmi Pagliuca, può dirmi Zenga, sono quelli i nomi che ballano, perché sono quei tre lì, Giulio Cesar, Zenga e Pagliuca degli ultimi anni, poi c'era Vieri, c'era Giuliano Sarti, che però c'è qualcuno che dice, eh però se l'è fatto fare quel gol col Man, capito, ma se l'è fatto fare nel primo tempo l'Inter in 45 minuti non ho risposto a fare un gol al Mantua, capite che non è solo colpa di Giuliano Sarti, se quel gol lì se lo fosse, lo avesse preso al novantesimo, allora magari mi sarei incazzato anch'io, ma l'ha preso alla fine primo tempo, c'era un tempo per fare un gol al Mantua, ma non sono riusciti, vuol dire che erano morti, purtroppo dopo quello che hanno vinto era finito ahimè il ciclo, finisce per tutti, comunque ripeto, magari Satriano, oh ragazzi, va via Lukaku, c'è sto ragazzino qua, lo butti in campo, 19 anni, l'anno prossimo lui e Lautaro ci segnano 50 gol e tu c'hai l'attacco, poi naturalmente arriverà al Paris Saint-Germain, gli offre 20 milioni all'anno e Satriano dice, signori ciao, mi offrono 20 milioni all'anno, non lo so, è bella butto lì, poi magari Satriano e Poverino lo prendono, lo mandano in qualche squadra medio piccola a giocare e noi ci prendiamo i due nonni, Zappata 30 anni e Zecco, io spero di no, sono tutti gli esaltati perché arrivano Zappata e Zecco, io sinceramente preferisco Glauic e Benzema, ve l'ho già detto, avevo detto già in precedenza se va via Lukaku io voglio Glauic e Benzema, perché uno è un usato sicuro che è abituato a giocare con qualsiasi attaccante, se è sopportato per anni c'è R7, quindi può giocare con chiunque ed è un giocatore di sicuro valore eccetera, anche se va ai suoi anni, però se devo prendere uno di 34 come Zecco preferisco Benzema con tutto il rispetto, visto che forse il Real Madrid prenderà, pare, pare, perché visto che quelli hanno preso pure Messi, non lo so, vedremo cosa succederà, non dispiacerebbe Vlauic e Benzema però, sarà difficile, dovremo accontentarci di Zappata e Zecco, vedremo come andrà. Nartone qualcuno devono prendere perché se no la prima giornata di campionato rischi di giocarla solo con Satriano. Lautaro Martinez è squalificato per una giornata, ha preso il giallo all'ultima giornata. Sanchez sta recuperando da sto benedetto infortunio che gli rompe le palle, scusate il francesismo, dalla Coppa America perché cosa ha fatto? Ha forzato per tornare in campo, ha giocato un tempo in Coppa America nei quarti di finale contro il Brasile, perso in A0, ha giocato un tempo perché poi nella ripresa è stato sostituito, è arrivato e c'è sempre questo problemino, però si sta allenando, sta cercando di farsi trovare pronto, si è allenato anche sabato e domenica il ragazzo, quindi dimostra su Sanchez ragazzi io so che tutti in A, si fa via perché qua, perché su per l'AMLS eccetera. Però lui ha dimostrato sempre l'attaccamento alla maglia, lui giocava 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora entrava dentro con la bava alla bocca, con la voglia di fare, poi magari voleva strafare quello che volete, però ci ha sempre messo tanto ma tanto ma tanto impegno e non smetterò mai di ringraziarlo. Però se lui non sta bene, Lautaro non c'è, non ci arriva nessuno perché gli attaccanti li prendiamo tutti e due al 31 di dicembre con due solita cosa, prestito con diritto di riscarco, magari anche due attaccanti che non ti aspetti da grande libidile coi fiocchi, magari due esuberi di due squadre forti che hanno lì due attaccanti buoni, 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 come direbbe il buon Maurizio Costanzo, che non ti aspetti, prestito con diritto di riscatto, due bei prospettini sui 27-28 anni che non hanno spazio in una squadra e sono giocatori di sicuro affidamento, ben venga perché io mi aspetto tanto dal buon Marotta, poi ve l'ho detto, mi auguro che al primo di settembre i tifosi facciano sentire tanto di quell'affetto e di amore verso i nostri dirigenti da non farli andare via perché se vanno via anche il buon Marotta e Ausilio, magari Ausilio molti sono contenti se va via, ma è un soldatino ragazzi, Ausilio è uno che si è fatto sempre il mazzo con i fichi secchi, cercava di prendere quello che poteva, i due pipponi, tra virgolette, perché Gabigol in Brasile, i gol li fa, ero visto giocare in Coppa America, è stato tra i migliori in campo nella finale con l'Argentina, anche se ha giocato 20 minuti, è stato il più pericoloso lui in 20 minuti che tutto il resto del Brasile, Neymar compreso, e Joe Mario, non è che li ha presi lui, ce li ha dati chi ha come cavolo si chiama di cognome, che c'è un cognome lungo come la Quaresima, ce li ha mollati lui, non è che li ha presi Ausilio, Ausilio cercava di comprare quello che poteva con quello che gli mettevano a disposizione, quindi ragazzoni io mi auguro, ripeto, che la curva eccetera stiano vicino almeno ai nostri due dirigenti perché come diceva la Longobarda, Oronzo Canassa è la nostra Serie A nel secondo film, l'allenatore nel pallone 2, ecco Beppe Marotta, sei la nostra unica speranza, è il nostro Obi-Wan Kenobi, se va via anche lui, siamo rovinati nel vero senso della parola, detto questo fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima, ciao a anche qui, anche in questo video, vi ricordo lunedì sera dalle 21 alle 23 sono sul canale di Alessandro Catto per una direttona con lui e il Bruni da Bivide e poi quando terminiamo passiamo sul mio canale per i nottambuli e poi facciamo la diretta del Gigione Classica del lunedì, ve l'ho detto così, ve lo sto dicendo in tutti i video che non mi state guardando, incredibile ma vero, magari li vedrete, poi domani magari li guardano in tanti, vedremo, però mi sono depresso perché gli ultimi video proprio, siete che erano tutti a fare ballamento in discoteca e quindi hanno poco tempo per stare a vedere i video, magari domani che sono al sole a farsi la pennica, belli spapparanzati, beati loro, io c'ho altri problemi, problems, ma vabbè, finché c'è la salute c'è tutto e poi i problemi si risolvono, come diceva qualcuno non preoccuparti dei problemi, spesso e volentieri si risolvono da soli, speriamo. Detto questo ci vediamo alla prossima, ciao!